Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo in collegamento con l'assessore regionale Chiara Marciani, assessore alle pari opportunità e formazione della Regione Campania. Assessore, ben trovata, ci sente? Sì, buonasera a voi e buonasera a tutti. Le chiedo solo gentilmente di ruotare il cellulare in orizzontale così che la vediamo nella maniera migliore. Sì, perfetto, così. Bene, grazie per essere intervenuta in diretta con noi oggi per quanto riguarda innanzitutto l'emergenza coronavirus. Ecco, vorrei prima di iniziare con le domande tracciare con lei un bilancio di questa situazione che sta vivendo purtroppo la Regione Campania. Abbiamo appreso un'ora fa dei risultati che sono stati trasmessi dalla Regione Campania. Per quanto riguarda la nostra provincia e quindi la provincia di Salerno abbiamo 182 casi positivi quest'oggi. Ecco, da lei vorrei una considerazione in merito a questa situazione innanzitutto, assessore. Beh, la considerazione credo è quella che poi è stata fatta anche nei giorni scorsi dal nostro Presidente che appunto segue in maniera assidua tutti i giorni la situazione. Purtroppo ci sono casi nella nostra Regione ma devo dire anche per fortuna siamo riusciti a limitare tutto sommato quelli che sono i focolai presenti. E quindi insomma è importante continuare a tenere in considerazione quelle che sono le ordinanze. Le invito a restare a casa tutti quanti, anche noi lavoriamo da casa, abbiamo fatto giunta ad esempio oggi a distanza usando la tecnologia che devo dire per fortuna ci aiuta, ci viene incontro e ci permette di lavorare anche a distanza rispondendo. E' cercando appunto di rispondere a quelli che possono essere tutte le criticità e i fabbisogni che anche con l'emergenza ci sono nel settore economico, nel settore delle famiglie, delle donne in difficoltà ad esempio. Bene, per quanto riguarda invece ecco la formazione in Regione Campania, abbiamo momentaneamente un blocco, probabilmente è arrivata una telefonata. Scusi, sì, scusi. Non si preoccupi, siamo abituati perché con questo nuovo metodo anche quando arrivano le telefonate ci rendiamo conto insomma che per un attimo si interrompe la linea, quindi non si preoccupi, è assolutamente normale. E niente, stavo dicendo per quanto riguarda la formazione ecco in Regione Campania, un altro tasto importante ma soprattutto importante anche per le fasce più deboli, che non hanno la possibilità ecco di seguire da casa perché non sono attrezzate. Sì, allora innanzitutto abbiamo voluto prima di tutto con una delibera di dieci giorni fa autorizzare gli enti di formazione a fornire formazione a distanza perché prima non tutti erano autorizzati. Quindi per facilitare tutti quanti abbiamo innanzitutto appunto cercato di risolvere questa prima emergenza. E l'altro elemento su cui stiamo lavorando è proprio monitorare attraverso tutti gli enti di formazione quelle che possono essere le situazioni critiche di chi è in difficoltà, di chi non ha uno strumento che permetta di seguire delle lezioni a distanza, fornendo materiale magari delle dispense, appunto altri strumenti, diciamo sempre come formazione a distanza che possono semplificare la vita. Quindi diciamo in gergo si usano due sistemi, quella classica formazione sincrona, quindi tutti contemporaneamente collegati, ma anche un sistema asincrono in cui appunto è possibile avere un materiale che si può poi studiare in un qualsiasi momento, magari appunto utilizzando altri strumenti a disposizione. Onorevole, buonasera Gianni Petrizzo. Buonasera. Le volevo fare una domanda per quanto riguarda le donne vittime di violenza che in questo periodo convivono, ahimè, con persone, diciamo... Sono ancora più a rischio in questo momento. Persone spreggevoli, ecco, questo mi sento di dire. E quindi mi fa piacere da parte sua insomma una considerazione a queste donne che in questo momento davvero soffrono tanto. Sì, noi abbiamo voluto ricordare anche l'altro giorno i numeri che ci sono sempre a disposizione per tutte le donne vittime di violenza. Innanzitutto il numero nazionale 1522, ma anche i centri antiviolenza che fisicamente ma anche non fisicamente sono sempre a disposizione delle donne vittime di violenza. Perché questa convivenza forzata per alcuni può diventare veramente, per alcune donne può diventare veramente un incubo per loro e per i loro bambini. E quindi è vero che bisogna restare a casa, ma è vero anche che c'è sempre la possibilità di trovare un rimedio. Le case rifugio sono sempre aperte e sono sempre a disposizione per i casi più gravi. E quindi è importante ricordare a tutte le donne che possono trovarsi in difficoltà, che magari ci hanno raccontato nascondendosi anche in bagno o con la televisione accesa per non farsi sentire, sono riuscite a chiamare per chiedere aiuto anche in questa situazione di difficoltà. Come vi state organizzando, onorevole, per quanto riguarda, ritornando invece sempre alla formazione e quindi alla scuola per il futuro e quindi per i ragazzi che in questo momento sono bloccati a casa, tra virgolette, quindi non possono procedere al programma scolastico che prima effettuavano? Beh, devo dire, è una difficoltà per tutti. Io anche sono mamma di due adolescenti quasi, quindi ogni mattina siamo anche noi alle prese con varie video lezioni, documenti vari da stampare, mail da inviare. Sicuramente è complicato e appunto non tutti, anche in questo caso, possono avere sempre gli strumenti a disposizione. Però sono sicura che appunto siamo tutto sommato a poche settimane da quando purtroppo c'è questa emergenza e già siamo riusciti a trovare rimedio a tante soluzioni e quindi sono sicura che magari anche ragionando caso per caso si riesce anche con quella che devo dire è la straordinaria capacità di invenzione, magari di trovare soluzioni quando ci sono questi problemi dei nostri concittadini e di tutti coloro della nostra regione che appunto si danno da fare in questa emergenza, riusciamo sempre a trovare una soluzione. Quindi è una difficoltà anche dal punto psicologico per i nostri giovani che appunto non hanno una classica maniera per socializzare, per stare insieme. Però appunto ci auguriamo che possa risolversi nel più breve tempo possibile e comunque questi strumenti ci aiutano a venire incontro e a poter far comunicare tra di loro anche magari appunto a distanza e non da vicino. Mi scusi onorevole, l'ultima domanda poi la lasciamo al suo lavoro, insomma sicuramente intenso. Lei ha detto che sta lavorando in smart working, quindi la giunta regionale continua a lavorare. Ci può dare dei dettagli su cosa state, insomma, qual è l'indicazione prossima sul futuro della nostra bellissima regione? Beh, devo dire che anche nella giunta odierna abbiamo da un lato il Presidente, tutta la task force sta lavorando per cercare di venire incontro a quella che è l'emergenza sanitaria, ma tutti invece stiamo già cercando di trovare soluzioni per venire incontro a quelle che sono le difficoltà economiche. Al primo provvedimento di qualche giorno fa che sostiene le famiglie e al provvedimento di oggi della Regione Campania che è già stato emanato, dando delle linee guida su quelle che sono l'attuazione delle risorse nazionali destinate alla cassa integrazione. E sono sicura che appunto stiamo già studiando a brevissimo ulteriori interventi per venire incontro a tutte le imprese e le famiglie che naturalmente si trovano e si troveranno ad affrontare delle difficoltà economiche legate a questa crisi. Bene, perfetto. E magari ne parleremo più in là se lei è d'accordo e è disponibile. Così i nostri telespettatori, i cittadini tutti, insomma, avranno una guida concreta perché adesso il problema è proprio quello. Vedo, mi perdoni onorevole, una serie di difficoltà proprio da parte del cittadino di avere informazioni, di avere notizie, di avere indicazioni. E quindi è indispensabile in questo momento essere da guida, da faro per loro. Sicuramente, anzi con molto piacere anche perché c'è un altro elemento che molto spesso crea questa situazione di disagio a cui le faceva riferimento e sono anche false notizie e false informazioni che purtroppo girano sulla rete e che a volte spaventano anche o appunto mettono in difficoltà i nostri concittadini. Quindi a disposizione sicuramente voglio dire io e comunque tutti gli uffici regionali magari anche venendo incontro a quelle che possono essere vostre richieste o vostri dubbi possiamo essere a disposizione per cercare di venire incontro e di aiutare chi ha dei dubbi o chi ha bisogno di alcuni chiarimenti su tematiche specifiche. Grazie. Onorevole, per chiudere il nostro collegamento mi piacerebbe soltanto un messaggio a queste donne che in questo momento sono a casa e come lei precisava proprio prima nel suo intervento iniziale mi piacerebbe insomma lasciare un messaggio soprattutto a loro perché il Covid-19 non risparmia neanche purtroppo queste donne che sono costrette a vivere situazioni non piacevoli nelle proprie mura domestiche. Sì, sicuramente io ricordo e grazie per aver dato, per darmi questa opportunità appunto ci tengo a ricordare l'esistenza dei centri antiviolenza del 15-22, non esitate a rivolgervi ai centri antiviolenza se siete in difficoltà, se ci sono degli episodi anche solo per un consiglio, per un dubbio un sostegno psicologico di cui potete avere bisogno per voi o per i vostri figli è una situazione di difficoltà per tutti e quindi anche poterne parlare, avere un supporto di questo tipo a distanza può essere molto utile in questi giorni, quindi mi sento veramente di fare un ulteriore appello e vi ringrazio per questo, di ricordare a tutte le donne che anche sul sito della Regione trovate tutti i numeri di telefono di tutti i centri antiviolenza della Regione Campania oltre come dicevo al numero nazionale 15-22. Me la ringraziamo onorevole per il suo intervento e speriamo di poterci risentire anche nei prossimi giorni magari anche con delle richieste specifiche da parte dei cittadini. Con molto piacere, grazie a voi e buona serata. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro.